Una mela al giorno. I detti sulle mele si sprecano e anche a livello di simbologia non si scherza certo tra Biancaneve, Guglielmo Tele e Eva, solo per citare i più famosi. Eppure la mela non è quasi mai celebrata per i suoi aspetti gustativi, ma più che altro per le sue proprietà. E invece, grazie a una sterminata diversità, questo frutto, che forse nell'immaginario collettivo è il frutto per eccellenza, ha caratteristiche molto diverse a seconda della sua origine, della varietà e anche del modo in cui viene trasformato. Nel nostro paese ci sono all'incirca 2000 varietà diverse di mele. Si va dalle molte tipologie coltivate in Trentino Alto Adige alle antiche mele recuperate da fruttetti praticamente dimenticati. Ci sono quelle più croccanti e succose, quelle dolci e farinose, quelle piccole e bruttarelle e quelle grandi, tonde e lucide, quelle perfette per essere mangiate così come sono, magari con la buccia, e quelle che è meglio se vengono cotte, fino a quelle che invece sono proprio da cuocere se non si vuole restare con la bocca asciutta, tipo così, e acidissima. Forse non lo sapete, ma la mela, anche se come abbiamo detto prima, è probabilmente tra le prime immagini a prendere forma nella nostra mente, quando diciamo frutto, un frutto non lo è. Da un punto di vista botanico, infatti, è classificata come falso frutto. Questo perché quello che noi consumiamo è la parte inferiore del peduncolo del fiore e non, come invece dovrebbe essere, l'ovario, che è rappresentato esclusivamente dal torsolo. Tra le varietà di mele poco conosciute e che meriterebbero invece più notorietà, c'è la mela zitella del molise. Si tratta di una mela di piccole dimensioni, la cui pianta è presente, ormai con pochissimi esemplari, oltre che in molise, anche in Campania e in Abruzzo. La sua caratteristica forse più importante è la longevità. Questo non frutto, come ormai abbiamo imparato, una volta raccolto, infatti, può reggere in dispensa anche per diversi mesi, senza rovinarsi in alcun modo. Un dettaglio molto importante è sicuramente sfruttato, per esempio, dai pastori che in molise si spostavano lungo i tratturi per la tradizionale transumanza delle greggi. Il viaggio che dalle montagne locali veniva fatto in inverno verso le pianure pugliesi è percorso in estate in senso contrario. L'altra peculiarità interessante, soprattutto per la pasticceria, è che queste miele sono molto povere di pectina e questo le rende adatte a essere trasformate in canditi utilizzati per i dolci tradizionali o per i moderni panettoni. Curiosa è poi l'origine del nome. Zitella è il termine anche un po' dispregiativo con il quale venivano chiamate le donne non sposate. La polpa di queste mele era per questo in passato utilizzata come cosmetico e quindi come espediente per avere una pelle più bella e attraente, soluzione che si pensava potesse far superare lo stato di single a coloro che la impiegavano. Curiosa poi, pur senza legami come il nome, la pratica di impiegare la buccia come profumatore di ambiente. Per quel che riguarda il consumo, infine, questa mela, come molte varietà antiche, è ottima soprattutto quando cucinata, magari in una classica e morbida torta di mele. Pronti? Per una torta come si deve bisogna innanzitutto pelare e tagliare a pezzi di medio piccolo dimensione 5 mele. Nel frattempo in un piccolo tegame fate sciogliere 150 g di burro e quando sarà liquido aggiungere 5 cucchiai di farina e 5 di zucchero e mescolate bene. Togliete ora dal fuoco e incorporate 1 alla volta 3 uova, quindi mettete le mele e se vi piace una manciata di uvetta fatta mollare in acqua tiepida. Sciogliete ora una bustina di lievito in poco latte e incorporatela all'impasto. Mescolate bene, completate con un pizzico di sale, quindi mettete una tortiera e infornate a 170 gradi per un'ora. Lasciate raffreddare, sformate e servite con poco zucchero a velo in superficie. Grazie. 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 Grazie.